Uno spazio di silenzio aperto alla comunicazione. È l'ennesimo miracolo di San Filippo Smaldone, fondatore delle suore salesiane dei Sacri Cuori e apostolo dei sordomuti. Un luogo dove chi non vuol sentire impari ad ascoltare. Dopo due anni di lavori di restauro, la casa madre apre alla città per diventarne centro spirituale. Oggi è casa anche di preghiera, dopo la ristrutturazione, casa di accoglienza per coloro che vogliono fare, che ne so, un ritiro spirituale, esercizi spirituali, oppure conciliare il riposo, per esempio, nei luoghi vicino e poi potersi ritirare nel silenzio. Perché oggi tutti abbiamo bisogno di trovare in questi luoghi momenti molto importanti di silenzio per ritrovare il senso della vita. Pietre che trasudano storie e carità e che rischiavano di essere seriamente compromesse dal peso degli anni. Era il 25 marzo 1886 quando San Filippo fondò a Lecce la congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, votata alla carità, all'accoglienza e all'educazione dei bambini sordomuti destinati diversamente a restare marginati nell'ombra dell'ignoranza. Ed è da qui, nella casa che il santo abitò e che conserva le sue reliquie, che è partita la loro opera, oggi diffusa in tutto il mondo. Per questo, a benedirla, ha voluto esserci l'arcivescovo Monsignor D'Ambrosio a rendere omaggio all'opera silenziosa, ma fattiva, di queste suore e di questo luogo. Storico ponte, dal silenzio alla vita e ritorno, per chi dal rumore cercasse rifugio. È bello che ci sia al centro della città, centro storico, ci sia una casa dove chi vuole può ritirarsi, può pregare, può raccogliersi, può approfondire i grandi temi della vita spirituale. Grazie.